I triangoli Ecco un triangolo scaleno Adesso proviamo a disegliarlo Facciamo un'oretta di 8 cm Tracciamo la sua altezza in un punto qualsiasi Infine ne tracciamo i lati Ecco un triangolo Caleno Ecco un triangolo isoscele Adesso proviamo a disegliarlo Disegniamo Disegniamo un'oretta di 6 cm Disegniamo l'altezza perfettamente in centro Infine E aggiungiamo i lati Ecco Ecco un triangolo equilatero Ecco un triangolo equilatero Adesso proviamo a disegliarlo Disegniamo la base di 6 cm Disegniamo l'altezza Disegniamo i lati Partendo dai due vertici Possiamo osservare che tutti i lati Hanno la stessa misura della base Ecco un triangolo equilatero Ecco un triangolo equilatero